Iandi, ben arrivato a Modena, tanti anni d'avversario, tante volte qui al Palapanini, adesso con la maglia giallo-blu addosso. Ti chiedo come è nata la scelta di arrivare qui a Modena? Grazie per tutto. La setta, come ho detto prima, è una società che volevo giocare da un tempo già, quindi in questo anno si è dato la possibilità. Aspetto di dimostrare tutto lo che veniva facendo durante questi anni, vado a giocare con un grande giocatore, quindi possiamo fare una bella stazione. Arrivi in una squadra molto rinnovata, molto ambiziosa, cosa ti aspetti da questo gruppo? Sì, è una squadra ambiziosa, anche la società è ambiziosa, questo è buono perché ha investito tanti in questo giocatore e sempre giocare con un giocatore buono è facile, diciamo, però l'importante è che noi riusciremo a giocare insieme e fare una bella stazione. Ti trovi qui a Bruno, troverai invece in Gapè, in Gapè, in Gapè, in Gapè, insomma tanti attaccanti di alto di posto. Eh sì, sì, principalmente in Gapè ha cresciuto tantissimo in questo anno, con Gapè ha tenuto un po' di figli e con Bruno ha giocato tanti anni già, quindi siamo un quarteto bello e spero che mi piaccia giocare con loro, anche loro con me, quindi questo è un lavoro che dobbiamo fare prima di iniziare il campionato. Si può pronunciare la parola Scudetto per il momento evietato? No, credo che sono quattro team ai favoriti della Scudetto, quindi sono un giocatore che deve lavorare tanti per vincere il campionato italiano, già che è il campionato più forte del mondo, quindi aspettiamo che succeda durante l'età c'era. Siete tanti giocatori forti, però siete tanti nuovi, pensi che magari all'inizio mettere insieme un po' tutti i meccanismi, se è difficile farete un po' più di fatica o il fatto che siete tutti dei campioni vi aiuterà? No, di sicuro la fatica viene, no, perché noi abbiamo giocato praticamente nunca insieme, però questo è una cosa che l'allenatore deve fare, no, quando l'allenatore arrivi più veloce possibile possiamo stare insieme, questo è quello che aspetto che sia buono, no, per iniziare il campionato, non 100%, perché no, iniziare 100%, però più o meno 90% andiamo a vedere la struttura dei team. Grazie Viter Banco conferma il proprio impegno accanto a Modelo Volley in una stagione di rinnovate ambitte. Sicuramente, innanzitutto siamo molto soddisfatti del roster messo assieme dalla società, crediamo sia di assoluto livello ed è il motivo per cui, non solo quello naturalmente, abbiamo deciso di rinnovare il nostro appoggio. Più in generale riteniamo che l'appoggio ad un territorio, ad una comunità per una banca arenata in queste zone sia assolutamente importante, per cui con piacere estendiamo questa patternsing che ormai deriva da tanti anni. Nella speranza, ma ripeto, la formazione che ci è stata proposta e la squadra, per come ci è stata annunciata, ci lascia molte speranze, insomma, che credo meriti anche sia i tifosi che la società. Grazie.